Entra in uno stesso tempo, in un stato di profondo rilassamento. Ascolta il tuo respiro in connessione con te stesso. In apertura del cuore, metti le mani sul petto e senti l'amore e la gratitudine crescere in te ed espandersi dal tuo centro. Nel sentimento di amore e di gratitudine percepisci le espansioni del cuore che si irradiano, si espandono, piano piano, purificando il tuo corpo, allineando il tuo essere alle più alte vibrazioni. A presto! Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Sì.